Al centro celestiniano oggi un ospite importante per una conferenza organizzata da Demos Abruzzo, coordinata a livello locale da Alfonso D'Alfonso. Presente Mario Giro, presidente nazionale Demos e responsabile per i rapporti esteri della comunità di Sant'Egidio, già viceministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, dei governi Renzi e Gentiloni. Una presenza importante per riflettere sulla pace, per parlare di guerra e per rilanciare soprattutto la posizione chiara e ferma di Demos. Mario Giro infatti ha ribadito la loro posizione contraria a ogni guerra che per loro non può mai essere la soluzione. Un messaggio importante che arriva dalla città di Celestino, simbolo del perdono, della pace e della fratellanza. Non solo all'Aquila ma in particolarmente all'Aquila la pace è un messaggio, è anche tradizione del nostro paese, di essere un paese di pace, di mediazione e di dialogo. Questa guerra è una guerra terribile, vediamo delle immagini orrende e la guerra dobbiamo ricordarci che è una bruttissima bestia. È lei il male, come il Papa Francesco dice che è sacrilega, cioè contro la sacralità della vita umana e va assolutamente fermata. Noi come Democrazia Solidale pensiamo che i leader europei e anche il nostro Premier dovrebbero concentrarsi a trovare le ragioni della pace per contenere questa guerra. Naturalmente non è in discussione il fatto che la Russia abbia aggredito l'Ucraina, siamo molto rispettosi della resistenza ucraina e della forza di questo popolo che è stato aggredito, ma noi vogliamo anche che la guerra si fermi perché più va avanti e più creerà le condizioni per la sua permanenza e per la creazione di altre guerre. Poi la guerra è ormai uno strumento obsoleto, vecchio, sorpassato, superato e non serve a risolvere i problemi. Nessuna guerra degli ultimi vent'anni ha risolto nulla, ha creato più caos che altro e quindi al di là della discussione chi ha ragione e chi ha torto bisogna pensare quali sono le ragioni della pace e questo è il messaggio che anche Democrazia Solidale incarna politicamente nel panorama italiano e per cui si spende ogni giorno. Noi pensiamo innanzitutto che l'invio di armi sia un discorso superato perché l'Ucraina ha ricevuto 4 miliardi di dollari di armi dal 2015 al giorno prima della guerra, quindi le armi le abbiamo in realtà già date e noi pensiamo anche che concentrarsi sulla parte militare della questione non sia una buona politica. La buona politica è quella soprattutto per riaffermare le ragioni della pace. Anche con questa Russia dovremo convivere in Europa, anche con questa Russia quindi dobbiamo trovare il modo di contenerne lo sciovinismo aggressivo e di disarmarci tutti. Da ormai 15 anni i processi di disarmo si sono interrotti, vanno ripresi. Disarmiamo prima le mani e poi disarmeremo anche gli animi. Grazie. Grazie.